Buonasera ai nostri telespettatori, vi ritrovate all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di cultura, di palcoscenico, perché è stata presentata proprio in questi giorni la nuova edizione, la nona sotto la guida del nostro ospite, del Città Sant'Angelo Music Festival. Saluto e ringrazio il direttore artistico Alessandro Mazzocchetti. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Come sempre, come ogni anno, come sta diventando una bella tradizione, Città Sant'Angelo a partire dal mese di novembre, per arrivare poi alla primavera, si colora di musiche, di emozioni, di cultura, di concerti e anche di conversazioni sulla musica di alto profilo. E questo, diciamo, già l'impronta, e questa già l'impronta che da nove anni, da direttore artistico, lei ha dato a questo evento, è soprattutto l'attualità del tema di quest'anno, che permea un po' tutti gli spettacoli, un po' tutti gli incontri, un po' tutti gli eventi, che è curioso perché è un tema legato a Romeo e Giulietta e, insomma, ci sarà modo attraverso questo percorso di avere varie sensazioni, avere varie emozioni, attraverso la musica e non soltanto incuriosirsi, e arricchirsi rispetto a questa storia ormai, direi proprio, emblematica dell'amore da secoli. Alessandro Manzocchetti, intanto, com'è venuta l'idea di dedicare a Romeo e Giulietta e così, con un bacio, Io muoio è il titolo della stagione. Sì, diciamo che per la prima volta quest'anno il Città Sant'Angelo Music Festival ha un titolo, ha un titolo che più o meno, grosso modo, è tangente a tutti gli appuntamenti che poi saranno presenti in stagione e il titolo è venuto un po' da sé perché il titolo della stagione è così, con un bacio, Io muoio, che è, diciamo, l'atto finale della tragedia di Shakespeare, Romeo e Giulietta, che è praticamente conosciuta da tutti, sin da piccoli, e contiene all'interno due forze molto forti, che sono quella dell'amore e della morte. Sono due grandi passioni sulle quali poter riflettere, sulle quali poter riflettere in un percorso che appunto dura praticamente sette mesi. Diciamo che questo tema sarà centrale, fondamentale in alcuni spettacoli e verrà toccato in maniera più lieve in altri. Però appunto il dramma di Romeo e Giulietta, che ha sempre e da sempre ispirato artisti, poeti, musicisti, è un dramma che ci tocca, ci tocca le corde, le corde dell'anima e quindi ha a che fare, ha a che fare con la nostra emozione e anche con l'attualità. E quindi un po' diciamo che la scelta è stata questa, è stata quella di tentare, di cercare di emozionare, di far vivere le emozioni dal palcoscenico alla realtà, dai piccoli, dai più piccoli, fino al pubblico adulto. Stiamo vedendo le immagini, le continueremo a vedere nelle edizioni precedenti di un festival che intanto come sua prima caratteristica ha quella di essere un evento diffuso perché coinvolge Città Sant'Angelo in tutte le sue location più suggestive, vecchie e nuove, perché insomma ci sono anche nuovi luoghi che avete iniziato ad esplorare e a rendere fruibili alla cultura nelle ultime edizioni. Sì, questo è verissimo, diciamo che chiaramente il luogo cardine, il luogo principale della stagione è il teatro comunale, è il teatro che in questi ultimi anni sta veramente diventando, citando Paolo Gras, un'infrastruttura sociale, un po' il posto, il punto di riferimento della cultura del paese, quindi angolana, ma anche chiaramente di fuori. E questo è il luogo dove si svolgono gli eventi principali perché chiaramente è un luogo adibito e attrezzato, ma come giustamente diceva negli ultimi anni in particolare stiamo esplorando un po' di luoghi differenti. Quest'anno ad esempio avremo il concerto inaugurale nella collegiata di San Michele Arcangelo, poi insomma per un motivo ben specifico del quale poi probabilmente parleremo, ma abbiamo anche scoperto lo scorso anno la tenuta Coppa Zuccari, che è una bellissima tenuta nelle campagne di Città Sant'Angelo che abbiamo utilizzato lo scorso anno per le conversazioni musicali, quindi degli incontri dove abbiamo banalmente parlato di musica e di arte, ma che abbiamo in realtà anche testato quest'estate a livello acustico con un concerto violino e pianoforte dei maestri Gibboni e Taverna e abbiamo scoperto effettivamente suonare in maniera veramente interessante e quindi abbiamo deciso per la prima volta di portare una vera e propria orchestra all'interno della tenuta, poi abbiamo gli spazi esterni, quindi abbiamo la piazza del teatro, piazza 4 Novembre, abbiamo avuto piazza Garibaldi, insomma i luoghi diciamo che ogni anno in base al programma si configurano immediatamente da quello che appunto ci sarà. Ecco maestro lei ha detto una cosa molto importante, il teatro è una struttura che deve respirare 365 giorni all'anno, allora è successo di un evento, di un festival, peraltro siamo alla nona edizione, spesso nel vostro settore, lei lo sappia di me, ci sono più battesimi che compleanni, purtroppo è da dire rispetto a queste iniziative. La fortuna è legata a due fattori fondamentali, alla crescita della struttura, appunto farla vivere sempre, non soltanto quando ci sono i concerti, ma attraverso momenti di formazione, momenti in cui coinvolgere anche tutta la società di una realtà culturale in cui si lavora, e anche la formazione del pubblico. Ecco, da questo punto di vista come sta incidendo il festival a Città Sant'Angelo? Ma diciamo che questo per noi è uno dei più grandi motivi di vanto, nel senso che veramente abbiamo visto negli ultimi anni la crescita, la crescita sia numerica del pubblico e sia di abbonati. Questo perché? Perché stiamo cercando, insomma, da nove anni a questa parte, di fare un lavoro piuttosto capillare sia nella programmazione, sia nella qualità degli eventi, degli spettacoli proposti, e sia nella fruibilità. Perché è vero che chiaramente mettere in programma, mettere in cartellone titoli blasonati è spesso utile, aiuta, attira il pubblico, però è anche vero che se il pubblico viene abituato, abituato a una certa qualità, a una certa cura e attenzione nel fare le cose, a volte scommettere su dei titoli anche un po' più sconosciuti, un esempio abbiamo fatto l'Occasione Felladro di Rossini, che è una farsa o la Cambiare di Matrimonio, che chiaramente non sono né Il Barbiere di Siviglia, né La Traviata di Verdi, no? Sono due titoli più sconosciuti, diciamo. Però nonostante questo il pubblico che ormai inizia ad essere fidelizzato si fida un po' della programmazione del Città Sant'Angelo Music Festival e quindi spinto un po' dalla curiosità, un po' dalla fiducia, in realtà viene, viene spesso a volte anche a scatola chiusa su dei titoli un pochino più specifici. E questo è un discorso che a noi sicuramente fa piacere, è un discorso però in realtà che parte e deve partire dai ragazzi, perché chiaramente il pubblico del domani, ma anche il pubblico di oggi sono i ragazzi, motivo per il quale noi abbiamo all'interno, non sono presenti chiaramente nella programmazione grande, però abbiamo dei progetti scuola, dei progetti dedicati ai ragazzi, perché questo fidelizzare il pubblico, è vero, servono gli abbonati adulti, il pubblico adulto è importantissimo e questa stagione è per loro. Però una parte veramente importante è quella dedicata all'education, alla formazione dei ragazzi. Opera, balletto, concerti, tanti gli eventi, appunto all'insegna di questo mix, tra la suggestione ineludibile della storia di Romeo e Giulietta che fa da filo conduttora, ma anche la sperimentazione. Ci sono anche momenti di approfondimento proprio sui linguaggi musicali, che aiutano anche a divulgare gli aspetti meno noti della musica. Se vogliamo trovare qualche evento da segnalare in particolare che possa appassionare chi ama l'opera, il balletto, i concerti, poi il programma intero ovviamente lo trovate sul sito e non siamo qui a fare degli elenchi, però se ci sono degli eventi particolari da segnalare che sono in anteprima per la regione e per il vostro teatro. Sì, diciamo che chiaramente la dicitura opera, balletto, concerti racchiude un po' tutto quello che c'è di principale nella nostra programmazione. I due eventi importanti legati al tema sono chiaramente il balletto di Prokofiev, Romeo e Giulietta, 21 e 22 dicembre, che è uno dei capolavori del XX secolo e questa musica per balletto veramente incredibile e che è la lettura, è la lettura di uno dei più grandi compositori di sempre di questo dramma. E questo balletto viene messo in scena con le coreografie di Michela Sartorelli, coreografa del corpo di ballo del balletto di Pescara e le scenografie di Telapinta. Una collaborazione, diciamo, che abbiamo sempre più consolidato negli ultimi due anni con entrambe le istituzioni che quest'anno appunto vede la luce, si concretizza in questa nuova messa in scena del balletto di Prokofiev. La chiusura, invece, di tutta la stagione è I capuleti e Montecchi di Bellini, opera lirica davvero eseguita, davvero famosa e che chiaramente si basa. È la storia di Romeo e Giulietta e della lettura di Vincenzo Bellini, capolavoro del Belcanto, che sarà l'opera che chiuderà il nostro cartellone. Diciamo che è un po' una scommessa dal punto di vista spaziale del teatro perché è la prima volta che in teatro non portiamo un atto unico, ma portiamo un'opera vera, un'opera lunga, un'opera che richiede il coro. E quindi siamo un po' tutti quanti elettrizzati tutto il film. Anche nel trovare le soluzioni sceniche. Anche nel trovare le soluzioni sceniche, chiaramente, sì, di portare un'opera che si esegue nei più grandi teatri, in un teatro come il nostro, che chiaramente ha degli spazi adatti a quello che è un paese come Città Sant'Angelo. Quindi sicuramente questi due sono i due appuntamenti un po' cardini. E poi appunto la collaborazione con la Sinfonica, che peraltro in qualche modo è agevolata anche dal suo, insomma, essere protagonista come artista, come direttore d'orchestra della stagione che è stata presentata proprio nei giorni scorsi all'Agro. Credo che faccia qualcosa su Mozart e Saint-Sans proprio in coincidenza con l'avvio del Città Sant'Angelo Music Fest. Sì, esatto, sarò ospite da loro nella stagione che hanno presentato a novembre. Sì, facciamo questa mini tournée abruzzese, appunto, L'Aquila, Atri, Giulia Nova su un programma, su Mozart, un concerto per pianoforte, Saint-Sans nella Sinfonia e la Maggiore. Insomma, è sempre un piacere ritrovarli all'interno del loro cartellone, nella loro istituzione, che sicuramente è tra le più importanti d'Abruzzo. E che sia itinerante, appunto, in Abruzzo anche per la vocazione storica della Sinfonica dell'Aquila. Assolutamente, infatti, per noi averli in cartellone, ormai anche questa è una collaborazione che va avanti da parecchi anni, è sempre un grande piacere, un grande onore. Quest'anno li abbiamo due volte, a febbraio e a marzo, con due grandi solisti, che sono il maestro Meloni, che è il primo clarinetto del Teatro La Scala, e il maestro Navarra, che è un flautista giovane, che però, diciamo, si è consacrato un po' dopo la vittoria a un premio importantissimo, che è il premio Nielsen, che è un premio di flauto traverso, insomma, e con loro, insieme all'istituzione sinfonica abruzzese, avremo la possibilità di ascoltarli, con due concerti, che sono il concerto per clarinetto di Weber e il concerto di Iber per flauto. E appunto, il discorso sull'Aquila inevitabilmente ci proietta sulla capitale italiana della cultura, ormai ci siamo, sembra quasi domani, per tutti gli operatori della cultura, non limitandosi soltanto alla musica naturalmente, che cosa rappresenta per voi? Anche come scenario di lavoro, come occasione irripetibile, probabilmente, in questa regione, anche con la voglia, per esempio, di tornare a suonare e a dirigere in un teatro vero, che è la grande speranza per la rinascita di questa città con questo evento. Senza dubbio. Senza dubbio, il teatro all'Aquila è appunto il punto di riferimento dal punto di vista musicale. Il fatto che l'Aquila sia appunto capitale della cultura è veramente un occhio di bue puntato sulla città, ma in realtà puntato sull'Abruzzo intero, che sicuramente in primis noi che operiamo nel settore dobbiamo essere bravi a sfruttare, sostenuti sicuramente tutte quelle che sono le forze le forze abruzzesi che devono capire che la cultura chiaramente non è solo ed esclusivamente l'abbonato che va a teatro e vede lo spettacolo e si emoziona, ma è tutto l'indotto di persone che parte da fuori, arriva a Città Sant'Angelo perché vuole sentire quel cantante, vuole vedere quell'opera, quindi dorme nell'hotel, poi va a mangiare al ristorante, è tutto un indotto anche economico che la cultura è provato, genera, genera ed è sicuramente uno degli aspetti più virtuosi del fare cultura, del fare arte in generale. Bene, io ringrazio Alessandro Bazzocchetti per aver presentato qui da noi il Città Sant'Angelo Music Festival per cui si fosse messo in visione e in ascolto soltanto ora, ricordo che l'intero programma è fruibile sui vostri siti, sui vostri profili Facebook, Instagram, YouTube, CSA Music Festival, basta cercarlo e troverete il modo per interagire anche per poter prenotare i biglietti perché suppongo che almeno per alcuni eventi sia già il caso di muoversi in anticipo. Sì, sì, la campagna abbonamenti è partita ieri, anzi, ieri siamo contenti di dire che dopo la presentazione abbiamo già sottoscritto i primi 50 abbonamenti, appunto segno tangibile del pubblico che ci segue e che è interessato all'arte, alla cultura in generale, quindi sì, da ieri è possibile acquistare gli abbonamenti, si trovano tutte le info sui nostri canali social appunto. Grazie e naturalmente lunga vita alla Città Sant'Angelo Music Festival, uno degli eventi che caratterizza per qualità e per interesse davvero l'offerta culturale del nostro territorio. Arrivederci maestro Mazzocchetti, a presto. Grazie. Grazie.